Salve a tutti amici e benvenuti con questo nuovo video, io sono solo Vimpos e oggi finalmente siamo sul nuovo Into the Dead 2 Finalmente è uscito, non vedevo l'ora che uscisse, adesso vediamo se l'attesa è valsa veramente la pena Inizia così il gioco, dove siamo qua però? Eeeh, in una strada isolata Io sono questo che sta portando sto camioncino Eeeh, salve! Che è uno zombo questo? Eeeh, tizio stai attento perchè ho visto qualcuno di sospetto Attento tizio Che c'è? Quanto sei lontano? Eeeh, tizio sto arrivando C'è stato un aggiornamento, si stanno difendendo più in fretta di quanto pensassero Addirittura Dovresti essere qui, ho sentito Eeeh, tizio sto arrivando Teni duro sorellina, arriverò più in fretta che posso E dai, attento Che cacchio, aiuto No tizio, non ti ribaltare in mezzo al nulla Aiuto Tizio, no, no, no Tizio, inizia a correre Aiuto Allora, come al solito il gioco è praticamente un runner Aiuto È un runner Quindi, eh, prendi qualche pistola, qualche mitra, qualche bazooka Sì, la foto Ma che ci fai con la foto? Che lo lancio come un giulichend Prendi qualche Attenzione, tizio scappa Attento la mano Tizio corri Ok, è un runner Il fulgore è distrutto Io sto bene, arrivo Sì, arrivi dopo domani, tizio Allora, io facciamo una pistola Io mi devo ricordare come si fa Però, ok, tocca qui per sparare Spariamo, tizio Perfetto Eeeh, scorri il polso per spostarti Ok, perfetto Ok, così Esattamente come il primo Quindi dobbiamo cercare di fare più meta possibile Quindi di raggiungere Aspetta, quello non mi piace a terra Raggiungere più distanza possibile Corri contro alle casse di munizioni Ok, tocca per continuare Tocco Io corro tutto Prendi tutto, tizio Prendi tutto Ok, abbiamo preso munizioni Perfetto Stiamo andando in un campo brutto Fortunatamente non ci sono tanti zombie Volendo Aspetta che qua ho visto una cassa Ma l'abbiamo persa Purtroppo Eeeh, qua stiamo andando in una zona brutta Aspetta una cassa qui Prendiamo la cassa Tizio c'è anche uno zombo Prendiamo la cassa Presa, presa Ma abbiamo il massimo di munizioni Credo Una cassa, una cassa Io sono a 400 Che è? Che diminuiscono i metri qua Anziché aumentare Aspetta, aspetta, aspetta Zombie, zombie, zombie Ah, dobbiamo arrivare praticamente Quindi non è che dobbiamo raggiungere più distanza possibile Dobbiamo arrivare effettivamente a destinazione Quindi, eh, le cose cambiano un po' Aspetta, qui è diventato rosso Stiamo arrivando 100 198 80 70 Siamo arrivati Siamo arrivati da mia sorella Credo Tizio ce l'abbiamo fatta forse Ce l'abbiamo fatta Tizio, siamo arrivati Stai bene? Dove siamo? Sto bene ma sono a piedi Effettivamente Veniamo a prendere Che c'è? Che succede? Sono ovunque Ce ne sono tantissimi questa volta Lo vedo tizio Però non tanti Effettivamente Dove sei? Veniamo a prenderti Vieni tizia No Portareghi da papà Barricate le finestre come abbiamo fatto nell'esercitazione Mi faccio risentire presto Ma tizio ma sei cretina Ti fa lasciare qui Te l'avevo detto tranquilla Ma tranquilla di che cosa? Tanto quelli a te mangiano E che si mangiano a lei Aiuto Venitemi a salvare Vi prego Che è successo? Sono morto? No Ah quindi è a livelli Il primo non era a livelli Effettivamente il primo era Più distanza si raggiungeva Meglio era Qui effettivamente Credo sia a livelli Forse Adesso vediamo Uno L'incidente Quindi questo è a livelli Molto interessante la cosa E ci sono anche queste missioni Effettua dieci uccisioni Effettua venti uccisioni Salta oltre due barricate Eccetera eccetera Effettua tre uccisioni con un solo colpo Come faccio? Fammi con una bomba Avanti Avanti Scegli una borsa da saccheggiare La più grossa Va questa Saccheggiare Che è? Oh una doppietta Fantastica Parti di brute Di brute double Parti però Quattro Quattro su quattro Quindi ce la possiamo prendere Sempre più giù Che facciamo qui? Che facciamo? Vai in armi Dai equipaggiamoci Sto cosino qua Brute double Forza Costruiamolo Costruiamolo tizio Costruisci Perfetto Oh adesso si guardate Che mitica La mia doppietta Brute double Hai costruito doppietta Perfetto Equipaggiamola subitissimo Subitissimo Allora se qualcuno Non vede il gioco Sul play store Sostanzialmente Perché Ancora il gioco Non è compatibile Con tutti i dispositivi Allora Siamo a livello 2 Però a livello 1 Abbiamo preso una stella Su 5 Perché dovremo fare Tutte le varie Missioni Quindi andiamo al 2 Vediamo un po' Vediamo un po' L'abbiamo equipaggiata Quell'arma però Allora verso la rovina 2 Dovrebbe essere al sicuro Da papà Continua a muoverti Resta concentrata E se una di quelle cose Dovesse avvicinarsi Abbattila Ok 1360 metri Sopravvivi Ovviamente Effetto a 10 uccisioni 30 uccisioni 10 uccisioni Con la doppietta A distanza ravvicinata Addirittura Effetto a 2 uccisioni Con un colpo solo Per 3 volte Quindi direi di sparare Così portiamo a termine Queste missioni Scegli l'arma principale Questa Io voglio la doppietta Mettetemi la doppietta Corriamo Per 3 energie Quasi sciupero le energie Però Purtroppo Quindi non possiamo giocare Infinitamente Dai forza I caricamenti lunghi Però forza Oh Avanti Cambiamo Cambiamo Sì sì L'avevo capito Non c'è bisogno E mi mettere la freccia Dico l'ho visto Il pulsante nuovo Io lo premo però Ho premuto tizio A posto Tizio Io ho premuto La doppietta si è messa Quindi è inutile Che continui a rallentarmi Il mondo qui A posto Forza Di nuovo Oh ma Ma che è un bug Ragazzi abbiamo scoperto un bug Io sto per cliccare qui Perfetto E tu cambi arma Ok ci siamo Quindi sbloccati L'equipaggiata Ora corriamo però Ragazzi piccolo bug del gioco Riavviamo Vediamo un po' Che succede Oh Ora perché sì Ok Ora sì Ma perché poco fa no Questo non l'ho capito Ok Distruggiamo quattro zombie maledetti Ma muori Ok due Due Morite pezzi di fanghi Aspetta questi no Ok Due zombie con un colpo Li ho ucciso Con la pistola Mi sono finite le munizioni Di già Mori Zombaccio Aspettiamo una cassa Qui Perfetto Ci diamo questo maledetto Cassa Mettiamo La doppietta Subito Subitissimo Adesso vi faccio Saltare la testa Maledetti Zombie Aspetta Aspetta Zombo No No Aiuto Metterci Lo strombolo Si doveva ricaricare il fucile Aiuto Addirittura Che mi avete uscito Dal corpo Pezzi di fanghi Eh si Ho 14 Riprova Perché mi avete preso Bastardi Zombie Maledetti Spariamo a questi due maledetti Cerchiamo di vedere le munizioni che abbiamo però Questi qua Questi qua Tre Ne uccido Tre Pistola Ma mi ha colpito quel bastardo Mi dico Muori Pezza di morta Muori Eh questi li evitiamo però Dovrebbe esserci una cassa qui Perfetto Prendiamola Abbiamo sei munizioni Utilizziamo Aspetta No adesso Perché ti perdi tutto sto tempo per caricare Aspetta Aspetta Qui 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 Tutte e due Mori No 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 Aspettati Ah sono due colpi E poi deve ricaricare però Aspetta Aspetta Dieci uccisioni però le abbiamo fatte Non so se adesso conta Muori Tizia maledetta Muori Ok Ok Uccidiamo qua un po' di gente Via di gente No ma che Ma crescono come i funghi Oh Fetto due uccisioni con colpo tre volte Ma qui mi esco l'interiore come se fossero infiniti Riprova Si Forza Andiamo di qua Non ci infiammeggiamo tra le auto sfiammeggianti Uccidiamo Questa bastarda La cassa C'è una cassa lì Credo di aver perso la cassa Eh quindi corriamo come se non ci fossero domani Fino alla prossima cassa Perché siamo a corto di munizioni Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Cassa Mi prego cassa entro dopo domani Ok lì c'è una cassa Uccidiamo quella bastarda No mancata Mancata la bastarda Cambiamo arma Ok Cerchiamo di risparmiare le munizioni Adesso Morite pezzi di mer Morite Morite Ok uccidiamo questo tizio Uccidiamo questo maledetto tizio Saltiamo Saltiamo Ti avete paura di me Beh Ho paura perché ho capito come si gioca Effettivamente non vale più allora Se me lo ripete lì No carica tizio Carica 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 Aiuto Dobbiamo ripetere lì gli obiettivi Ok Saltiamo la macchina Muori bastarda Muori 125 109 Uccidiamo un bastardo qui 60 Ok ce l'abbiamo fatta stavolta Vediamo un po' gli obiettivi che abbiamo portato a termine Eh James James Mi senti Nonno Tesoro Vieni dentro Forza Chi è Siamo da papà Però staremo qui Ma non metterci troppo Ma Dico io Sono a piedi pure Ottimo E mi fai parlare con Maggie Tizio Mi fai parlare con Maggie Papino Ho avuto qualche problema col furgone Quindi farò un po' tardi Forse Sempre si arrivi Tizio però Diglielo pure Diglielo Vuoi fare una cosa per me Aiuta la zio Ok io arrivo presto Sì sì Con me no tizio Con me i comandi tuoi Non credo che arriverei presto Ti voglio bene Ciao ciao Ti voglio bene anch'io papino Ciao 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 Non credo Sì sì Vabbè guardati la foto tizio Perché non so se la rivedrà effettivamente 3 stelle ce l'abbiamo fatta Effetto 30 uccisioni Non le abbiamo fatte 10 uccisioni Con la doppietta a distanza ravvicinata Addirittura È difficile effettivamente Portare tutti gli obiettivi a termine Avanti avanti Scegliamo una borsa Stavolta prendiamo Prendiamo Quella l'ho aperta Quindi prendiamo questa centrale Che abbiamo 50 argento Meglio di niente Può contenere un coltello Due parti di Brutdouble Che comunque ce l'ho Guarda Nuovo bottino Guarda il video No però adesso va bene così Fatto fatto Mi fate sprecare soldi così Sfascia tutto tizio Sfascia Ok parte di Defender di 9 Parte di Brutdouble Brutdouble Ancora si potenzia Alla ora Sì effettivamente Credo si potenzia ancora Riscuotiamo tutto Equipaggiamo la Defender Di 9 la potenziamo Allora Ok potenziamo per 50 Argento Perfetto Possiamo potenziarci anche Il Brutdouble Lì Cadenza di fuoco 50 Ok Facciamo un'altra forza Facciamo un'altra Va veloce All'inizio penso di poterci andare Con la pistola Volendo Andiamo qui Ammazziamo sto tizio Sbengate Sbengate Dobbiamo fare 30 uccisioni Vieni qua tizio Muori tizio Bastardo Muori Pezzo di fango Bellissimo Mi piace un casino Muori Morite 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 Muori pure tu Aspettami Stiamo offrendo le munizioni Tizio Muori pure tu Bastardo Ok Cerchiamo di ottenere una cassa Entro Dopodomani 700 metri Mettiamo qui la doppietta E ammazziamo 7 miliardi di zombie Via di zombie maledetti Ok Muori zombo Perfetto No Perché due colpi questo Coltello Coltello Bravo Picchialo 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 Meno male che abbiamo trovato il coltello Ma ammazziamo sto p Com'è che voleva due colpi Oppure l'ho mancato Non lo so se l'ho mancato Aiuto Aiuto Oh Che non me ne mettete più zombie davanti qua Ammazziamo 7 miliardi di zombie Questi vogliono due colpi allora Ok doppietta Mettiamoci la doppietta Spariamo a statizia Spariamo a statizia Bellissimo Facciamo una distanza ravvicinata Via di distanza ravvicinata Effettivamente uccisione l'abbiamo preso Tizio Nutri che ti alzi Perché ti puoi coricare di nuovo con me Ammazzi Aspetta No 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 Aspetta Perché sto morendo Ammazza statizia Via di qua Doppio colpo Via No Aiuto Coltello L'ho utilizzato Ma dai Alla fine 58 metri Mi mancavano Che stupo però Eh Vaffan cucchia Riprova Riprova Ok 180 metri Ammazziamo questo Muori tizio Muori tizio Muori tizio Aiuto 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 Abbiamo finito le munizioni Due Siamo arrivati stavolta Però ho fatto schifo Decisamente Poco fa Stavo andando meglio però Ellen Come va Ce la stiamo cavando per ora Non siamo in una fortezza Ma andrà bene Maggie però è spaventatissima Figurati io Figurati Dalle molli Le loro sacchette Abbraccia per un po' Andrà meglio Ok ci proverò Grazie Che non sono bravo In questo genere di cose Tizia Vieni a combattere tu Che ci penso io Va A dargli lo sacchiotto Ehi sta andando benissimo Resisti Sì sì Vabbè dai Dai Datemi 40.000 stelle Forza Che mi date Che mi date Che mi date Una stella Che schifo Che schifo Dai Due uccisioni Mi mancava per prendere quella da 20 E un casino per quella da 30 E due Per senza essere toccato Peccato Peccato Va bene Andiamo avanti Scegliamo una borsa Premiamo Prendiamo Questa qua grande Che ci dai Un coltello Perfetto Che per continuare Quindi i coltelli finiscono Modalità giornaliera Sbloccata Dovremmo fare sette prove Ogni giorno Con sto fucilazzo Bellissimo Ragazzi Questo gioco Mi intriga molto Quindi fatemi sapere sempre Voi nei commenti Se volete altri episodi Di Into the Dead 2 Alzo del video Se vi piacerebbe Se lasciate un bel like Vi ricordo di proseguirmi Con il video Facebook Twitter Seguite Seguite In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Sogita mia Ma domenica Horror Con Paranormal Asylum Allora Dall'aspetto Sembra molto Spaventoso Dovrai raccogliere Tutte le bambole Per scappare Dal manicomio Perfetto